Sono Alessandro Pescara, sono l'amministratore delegato di Borbonese. La sostenibilità è una cosa molto importante, è una parola che bisogna prenderla nella più ampia eccezione del termine, credo che sia un modo per creare un percorso evolutivo, quindi mi auguro che da adesso in avanti possa veramente essere la base di partenza per, come ho detto, un percorso nei prossimi anni. Ce n'è sempre bisogno di eventi similari dove la gente possa parlare, possa raccontare, possa portare il proprio know-how e la propria expertise ed esperienza per riuscire a trasmettere agli altri in termini proprio di percorso, per cercare di lavorare tutti verso un obiettivo comune.